ciao ragazze bentornate sul canale siamo di nuovo qui per un'altra estrazione visto che la terza vincitrice non mi ha ancora mandato nessun tipo di dato non so nemmeno se ha ricevuto la notifica però comunque non sta a me a star lì dietro ecco in questo senso non voglio essere cattiva però ci sono delle regole come tutte visto che tutte quante siete state bravissime l'avete rispettate non vedo perché io non debba procedere con un'altra estrazione quindi dobbiamo cercarne un'altra e anche perché appunto ci sono delle regole esistono e le devo far rispettare ricordiamo le due le tre erano la terza era california crei che appunto questa ragazza non si è fatta sentire io ho fatto anche un post su instagram come ho taggato le altre non ho taggato solo le vincitrice ovviamente ho taggato un po di ragazze quelle che mi ricordavo che avevano partecipato e che comunque le avevo su instagram ho taggato anche lei le altre si sono fatte sentire sono venuta a venire a vedere il video anche chi non ha vinto e le ringrazio gli do un bacio ogni singola persona e invece questa ragazza non si è fatta sentire quindi deduco che o non gli interessa o non lo so non ne ho idea e non voglio indagare sono passati quattro giorni con oggi e direi che sono anche tanti quindi chiedo una cortesia adesso io estrarò la terza vincitrice mi manca proprio la terza chiedo gentilmente alla ragazza che vincerà o il ragazzo che vincerà di farmi sapere se è possibile entro oggi però lo so che chiedo troppo ma entro domani lo so è domenica ma io ho bisogno assolutamente perché le ragazze che sono già state precise puntuali non dico aver ricevuto perché è impossibile però in settimana dovranno ricevere già il premio questo non potrà succedere proprio perché è venuta a mancare la risposta di una ragazza e quindi abbiamo ritardato il tutto io ho già provveduto ad avvisare l'azienda e quindi l'azienda mi ha detto se domani hai tutto cioè domenica domani mi mandi tutto quanto che io spedisco tutto e in settimana massimo l'altra vediamo se tutte quante hanno il pacchetto per il pacchetto lo ripeto qui non so se l'azienda vi manderà soltanto il superclip quello che ho fatto vedere appunto e sai zitto quello che ho fatto vedere nel video o vi manderà altro non ne ho idea perché è a scelta dell'azienda io ovviamente potrò consigliare dire l'azienda insomma di mettere qualcosa in più però ragazzi non dipende da me fosse per me una marea di cose lo dico di nuovo così almeno cerchiamo di ripeterlo per chi vince le altre due vincitrici la seconda e la prima cioè make up beauty 92 la seconda e arte cucina la prima mi hanno già appunto come dicevo prima mandato i loro indirizzi e avevo già spiegato che lo dico io non è una cosa che dice l'azienda per correttezza più o come dicevo nell'altro video è un dare e avere reciproco e ricevere insomma non voglio dilungarmi perché altrimenti dura mezz'ora sto video quindi chiedo gentilmente se non vi va di fare proprio un video apposito di fare la foto a ciò che ricevete e taggare ovviamente l'azienda con l'hashtag rapesco e poi taggarli proprio e taggare me e inserire il mio video così io vedo che voi avete ricevuto il tutto anche l'azienda e anche altri perché come ho già detto nel video se il giveaway va bene insomma è a un buon riscontro rapesco probabilmente ne organizzerà altri un po più ricchi diciamo ok ok detto questo io mi sono portata avanti ho già messo il link del mio canale del mio video giveaway sono 43 commenti non ho non ho tolto cancellato eliminato nessun commento li ho lasciati anche chi aveva già vinto li lascio tutti perché altrimenti mi complico la vita e non sono capace a rimediare quindi ragazzi abbiate pazienza siamo adulti se vedo che capito io capita la vincita cioè quella che ha vinto prima schiaccio di nuovo e andiamo avanti tanto i commenti sono quelli quindi senza perderci in altre chiacchiere andiamo a vedere nuovamente chi è la terza vincitrice 3 2 1 the winner is ho cliccato a nada vota the winner is ok la terza è danielitta 92 2 commenti e un like nel senso l'ho messo io quindi finalmente abbiamo la terza vincitrice che sono anche molto contenta perché è una ragazza che mi segue sempre ma veramente sempre quindi sono contenta così quindi danielitta 92 ai tempo fino a domani per darmi i tuoi dati il tuo indirizzo sono contenta un bacione perfetto ragazzi abbiamo terminato finalmente il video spero che insomma siete contenti del risultato io lo sono abbastanza nel senso che ok va bene sono tre vincitrici le ripetiamo partendo dalla terza in caso danielitta 92 la seconda make up beauty 92 la prima arte cucina ragazze bravissime complimenti danielitta aspetto i tuoi dati buon pomeriggio buon pranzo non so quello che state facendo qui luna meno un quarto quindi vi auguro una buona una buona mattinata un buon pomeriggio ciao ragazze grazie